Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Ma prima vi informo che stasera SmackDown è alle 19 circa su Sky Sport Arena, il canale 204. Prima di noi, come ieri, c'è una diretta del tennis. Dunque tenete presente che in casi come questo potremmo sempre subire dei ritardi. Io incrocio le dita e spero che ciò non si verifichi. Però, insomma, è un'eventualità di cui tenere conto. Al momento la prima replica in palinsesto dello show blu è fissata per domani giovedì alle 9 e 15 di mattina sulla stessa frequenza. E ora andiamo al TG e la prima notizia è importante perché stando alla ESPN, Brock Lesnar non tornerà a combattere in UFC. A confermarlo ci sarebbero le parole di Dana White, il presidente della nota Lega di Arti Marziali Miste, che parlando del sindaco di Suplex City avrebbe detto che con quell'ambiente ha chiuso e si è ritirato. Insomma, ve l'ho detto che era roba grossa. Dunque, la ventilata sfida con Daniel Cormier per il titolo di campione dei pesi massimi pare essere saltata. Malgrado Lesnar ne avesse gettato le premesse, e ve lo ricorderete, già la scorsa estate, con un'irruzione in un evento e anche, insomma, delle parole molto pesanti al veleno verso tutti i componenti della categoria appunto dei pesi massimi della UFC, almeno quelli più in vista. Sul futuro di Brock ora regna la più assoluta incertezza. Con la sola WWE probabilmente a poterne accontentare le richieste economiche e anche quelle creative. Ma ora l'atleta ha una leva in meno tra le sue mani per poter eventualmente alzare il prezzo o forzare la trattativa a suo vantaggio. Lesnar, insomma, ha sempre fatto valere il fatto che c'era un altro committente pronto ad ingaggiarlo. Ora invece questa sirena che costringeva la WWE, insomma, a prestare il fianco alle richieste di Brock, non canta più. Quindi chissà che accadrà. Sappiamo che Lesnar dovrebbe avere ancora un match in contratto, in accordo con WWE in Arabia Saudita, ma le possibilità che in qualche modo rinnovi con la compagnia dei McMahon, sembrano nettamente in rialzo. E stavolta, forse per la prima volta negli ultimi anni, la WWE potrebbe avere lei la possibilità di ingaggiare Lesnar a condizioni molto vantaggiose. Staremo a vedere, però, insomma, la situazione è parecchio in movimento. Ma voi, voi Brock Lesnar, lo rivorreste in WWE? Qua sotto, con educazione, dite roventi, ditemi la vostra. E abbiamo anche un'altra notizia grossa, che credo possa interessarvi, che forse non riguarda la WWE. Però devo darvela, perché riguarda un personaggio amatissimo. Su Twitter, Dean Ambrose ha cambiato il suo nome in John Moxley, un'identità che aveva già adottato in passato, era quella che utilizzava nelle federazioni più piccole, prima di arrivare in WWE. E ha accompagnato questa trasformazione con un video di presentazione di questo nuovo personaggio, che ha un valore di produzione mostruoso, smisurato, altissimo. Sembra un film, è fatto veramente bene. Andatevelo a guardare, andatevelo a vedere, perché chiunque l'abbia realizzato, ha svolto un lavoro eccellente. E lo so, magari Ambrose, ora Moxley, si esibirà per qualcuno in concorrenza con WWE, ma devo dare a Cesare, qualche di Cesare, questo video è una figata galattica. Poi, come, dove e quando Moxley entrerà in azione? In azione, tuttavia, ecco, per ora non lo so e non è dato saperlo. Pensate che peffa per tanti, che se lo aspettano chissà dove, se si ripresentasse in WWE, ma con questo cambio di personaggio. Ma chissà. Per ora regna anche qui l'incertezza, però, gran bel lavoro. Veramente. Bravo Dean Ambrose, bravo John Moxley, insomma. È bastato un video per riaccentrare l'interesse su un atleta che aveva un po' perso i fari della notorietà, malgrado l'appartenenza ad una delle stable, a uno dei gruppi più famosi degli ultimi anni, ovvero lo Shield. Stando al Wrestling Observer, anche Killian Dain ha lasciato i roster principali della WWE ed è stato riportato all'interno di NXT. Un po' come un paracadute, ecco, dopo la frantumazione dei Sanity. Peraltro Linky Cross ancora non sappiamo bene in che roster sia. Pare che l'abbiano accasata a Raw, però da quando c'è stato lo shake-up non si è più fatta vedere. In America, l'ultima puntata di Raw, quella che abbiamo visto ieri sera qui in Italia, con la telecronaca nel nostro idioma, ha ottenuto dei risultati di share televisivo particolarmente negativi. Forse i peggiori dell'epoca moderna del programma. È vero, c'erano delle partite dell'NBA molto sentite in contemporanea, però il calo di audience è significativo. Io stesso, nella live che ho proposto ieri sera per gli abbonati, ma aperta all'ascolto a tutti, ne ho evidenziato le pesanti criticità. Parliamo sempre della puntata. Se vi va, questa live la potete recuperare, ovviamente, passando dalla home page di questo spazio youtubico. Mentre per la prossima diretta aperta all'interazione con tutti, l'appuntamento, salvo imprevisti ovviamente, è per domani, giovedì, alle 21. D'accordo? Beh, spero che tutto vada bene e spero che siate numerosi davanti allo schermo, al computer, al cellulare, a quello che è insomma. Poche ore fa mi è stata confermata la prima tappa del mini-tour di presentazione del mio libro Storie di Wrestling, che torna disponibile, rinnovato e ampliato a sei anni dalla prima stampa. L'evento si terrà a Torino, alla Feltrinelli di Piazza CLN, venerdì 24 maggio, credo con inizio alle 18. Ecco, mi manca solo l'orario, ma collocazionalmente dovrebbe essere alle 18. Dai, ci inventiamo anche un nuovo neologismo. Tra qualche giorno, comunque appena li incamererò, pubblicherò tutti i dettagli di questa presentazione, gratuita ovviamente, sulla mia pagina Facebook, dove potete già leggere quelli relativi alle altre presentazioni già sicure e già fissate a Roma e a Napoli. Quindi, fanpage del Bardo, su Facebook, trovate gli eventi. Se potete condividerli su quel social, mi aiutate a propagare l'onda conoscitiva di queste iniziative. Partecipare è gratuito, potete anche non acquistare il libro. A Torino, la Feltrinelli ha uno spazio adeguato, quindi ci si potrà accomodare, almeno i primi che arrivano. Faremo una brevissima presentazione del libro, un paio di minuti. Una sessione di domande e risposte, come facciamo nelle live di questo canale, di durata variabile, a seconda dell'affluenza. E poi, chi compra il libro, glielo firmo, gli faccio una dedica, facciamo una foto. Chi non compra il libro, facciamo una dedica su un pezzo di carta, e facciamo una foto, e senza problemi. Per motivi organizzativi, probabilmente verrà data precedenza a chi il libro lo acquista, ma è lì la struttura ospitante a decidere. Tuttavia, io posso fermarmi per più di due ore, quindi credo di riuscire ad accontentarvi tutti, a meno che non mi strabigliate arrivando in centinaia e centinaia. Vista la presenza ormai ricorrente negli show WWE, in molti ritengono che Dominique, il figlio di Rey Mysterio, abbia firmato un accordo che lo lega alla federazione. Rey non ha mai fatto segreto di essere tornato nella Lega dei McMahon anche per favorire la carriera come wrestler del suo discendente diretto, aggiungendo che un domani gli piacerebbe tanto ritirarsi facendo squadra proprio con lui. Non è peraltro escluso che nel giro di qualche mese Dominique possa esordire a Rho, magari per difendere l'onore del padre contro Samoa Joe, o un avversario parimenti pericoloso e aggressivo. Questo ramo narrativo, a ben pensarci, probabilmente avrebbe dovuto dare i primi fiori, i primi germogli, già a Vestelmenia, ma l'infortunio di Mysterio ha poi fatto saltare tutti i possibili piani. Restando a Rey, ieri ha festeggiato il trentennale di carriera. Accidenti, sembra ieri. Io la prima volta che l'ho visto lottare credo fosse tra il 95 e il 94. Devo andare a ritroso a una vita fa. Trent'anni di carriera sono tantissimi. Se vi va, qui sotto nei commenti potete condividere con me e con tutti gli altri utenti del canale i suoi momenti che più vi hanno esaltato in qualità di tifosi e di spettatori. Per ora pare non ci siano segnali incoraggianti per quanto riguarda la salute di Jeff Hardy, che dovrebbe avere dei problemi ad una gamba e alla schiena. A SmackDown stasera ne sapremo qualcosa di più, visto che Matt ha promesso che ci aggiornerà nei dettagli. Ma la voce che gira è che molto probabilmente Jeff dovrà fermarsi per qualche mese. Quindi questo potrebbe portare Matt a cercare un partner sostitutivo oppure a rendere vacanti le cinture tech team dello show blue che i due fratelli hanno conquistato di recente. Ovviamente qui sotto, no spoiler, sino al termine della giornata su quanto è accaduto a SmackDown e badate bene che le news che vi fornisco sono sempre precedenti alla disputa degli eventi. Quindi a volte vi dico qualcosa che poi non si verifica o che è sbagliato o che non è perfettamente corretto proprio perché c'è questa distonanza temporale. Però ti devo informare che su Jeff l'outlook sembrerebbe negativo. Poi stasera avremo o una conferma o una smentita. Chiudiamo con Kurt Angle che ha rivelato di aver rinnovato con la WWE per cinque anni. Un bel periodo, eh! Il suo ruolo sarà un part-time che potrebbe vederlo coinvolto in TV come general manager, come leggenda del ring, come figura d'autorità. Insomma ci sono mille possibili ruoli per Kurt. Tuttavia principalmente Angle lavorerà dietro le quinte come producer aiutando i wrestler più giovani e meno esperti nello strutturare al meglio i loro match. Beh io direi che la sua guida, la guida di un campione come Angle non possa che giovare a molti ed è anche una grande addizione nel backstage della compagnia perché Kurt negli ultimi anni insomma non ha mai avuto la reputazione di essere un piantagrane o un tizio particolarmente egoista o chiuso su se stesso. Anzi ne ha viste di tutti i colori e sarà veramente un valore aggiunto per tutti coloro che avranno la fortuna di lavorare al suo fianco. Direi che con questa ho terminato ma prima di salutarvi vi ricordo di piacciare con un pollice sul video che serve sempre per la sua propagazione di commentare con educazione con Ditaro 20 qua sotto tutte le news che ho condiviso con voi e poi stasera eh non mancate Smackdown alle 19 speriamo su Sky Sport Arena il canale 204 in quanto a noi noi ci vediamo quanto prima sempre solo qui sul canale del Bardo alla prossima ciao